Spegni! No, 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 no! No andiamo! Che! Duomo! No, no, no come ti sta tutti i cantori! Spegni! Posso! Non voglio! Non vi sto vestirmi! Ah! Non mi sto ingazzando! Spegni! Nonni, spegni! Ti lascio solo qua! Spegni! Si! Non mi vestirmi! Dimi non mi mangia! Sì, no, non me l'ho in bagno. Belli, spegni. Sì, spegno. Puoi scegli giù, perché giù non mettiamo la carizia ma tutto lo duma, eh? Ti devo prendere la testa, vediamo le panzone, perciò, non rimani qua. Io ne metto, eh, mi devo fare il fatto di fare il tetto con la canna. Sì. E non ho fatto solo giù, quando ti metto la canna. Puoi spegnere? Sì, spegno. Sì, spegno. Sì, spegno. Un bellissimo video, mi sto guardando. Proprio come l'anno scorso. E il venitore diceva, non me lo so, io ce me lo guardavo. Vendite la stamattina a registrare, vieni a lavare. Sì, che mi lavo. Adesso, che so... Lavare. Vieni a lavarmi. Provare? Non puzza! Via! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Stiamo venendo proprio dall'anno scorso, dall'interno del 2016, ma stiamo venendo alla fine di quest'anno Stacco questa maledetta pastezza e metti il tappolo! Scusate Scusatemi ragazzi Scusatemi per il disturbo Ovviamente, sinceramente, ho fatto i video su questo film Noi li abbiamo caricati ancora, di quelli dell'anno scorso, forse ricaricherò quelli dell'anno scorso Ma i nuovi stimi per il tappo d'anno Grazie Non puzza! Vabbè, non puzza Mi sono scioccato bene Vai, vai! Messa! Messa! Anche le scopse, non so che stavano bene Vabbè! Vabbè, che piacere! Vabbè! Maronna, non fissa più uno! Vabbè! Fissa più uno, Maronna! Vabbè! Non dovrei aprettarmi Non dovrei aprettarmi Non dovrei apretarmi Non dovrei apretarmi Non devo fare speciale, continuiamoci, continuiamoci, per mia contezia, partiamoci, partiamoci, forza, sono già vestito, affrezziamoci. Scusatemi, ho caricato la mia telecamera, finalmente ho caricato la mia telecamera, peccato, scusatemi, non bevo, sono a schermo, 5 minuti. Oh, magari la batteria si iscarica, oh, pausa.